Matteo Bassetti lancia l'allarme. Scoperto un nuovo batterio carnivoro. Attenzione a questi sintomi. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Il noto infettivologo Matteo Bassetti, professore ordinario di malattie infettive presso l'Università degli Studi di Genova e dirigente medico presso il Policlinico San Martino di Genova, ha recentemente lanciato un allarme riguardante la scoperta di un batterio carnivoro. Questa scoperta potrebbe rappresentare un grave pericolo per l'umanità, soprattutto in un contesto di globalizzazione come quello attuale. Bassetti, che ha acquisito notorietà per il suo segno durante la pandemia di Covid-19, ha espresso preoccupazione per l'aumento significativo dei casi di grave infezione da streptococco, in particolare in Giappone. Nell'area di Tokyo, i casi di sindrome da shock tossico streptococcico sono triplicati nell'ultimo anno, con un tasso di mortalità fino al 30%. In tutto il Giappone, le infezioni oro-faringe da streptococco sono quadruplicate negli ultimi quattro anni. In un'intervista rilasciata ad ADN Kronos, Bassetti ha sottolineato che il problema non è limitato al Giappone, ma è diffuso a livello globale, incluso in Italia. Le infezioni da streptococco sono aumentate in tutto il mondo e anche in Italia. Basta guardare i dati del nostro paese se avessimo un sistema di sorveglianza, ha dichiarato l'infettivologo. Bassetti ha inoltre annunciato la presentazione di dati preoccupanti sulle infezioni da streptococco in Liguria, evidenziando la gravità della situazione. Questa scoperta solleva allarmi sulla possibilità di nuove pandemie e sottolinea l'importanza di un sistema di sorveglianza efficace per monitorare e contrastare tali minacce alla salute pubblica. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.